ci sta più a casa della figurina ho spallata la ramadina che se potea entra più trento perché manchea un travecimento ma se potea bocca c'è dentro coi freni rutti di a 1100 c'entra tu trento un motorino tutto sparato copriscibino ma era strana strana da dirlo a fonte vecchia numero zero ma era strana strana da dirlo a fonte vecchia numero zero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti